Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto frente l'ultimo mammut superstite dell'episodio numero 24 Lo scontro tra i due elefanti Una volta che Camillo tornò a casa dal lavoro per emergenza sua moglie Cludi gli disse Per fortuna sei tornato da lavoro Il tuo mammut, come ho cercato di dirti prima che tu uscisti per andare a lavoro è cresciuto in maniera oripilante La tua creatura non è un mammut è un mostro Voglio che tu lo porti nel suo giusto posto Io e i nostri figli non possiamo rischiare che ci faccia del male Egli non è un animale domestico come tu credi Un elefante ha bisogno del suo habitat Camillo rendendosi conto di essere stato molto irresponsabile a tenere due elefanti vicino a casa prima che egli potesse rispondere a Cludi venne interrotto dal barito di Cala Infatti i due elefanti stavano iniziando a litigare poiché Cala non riusciva più a riconoscere suo figlio Fenti siccome non somigliava per niente a un elefante Camillo scosso dalla tragedia chiamò immediatamente Aristide che scusandosi portò via Cala sparendo per sempre dalla vita di Camillo Poi Camillo parlando nuovamente concludi i promise che avrebbe portato via Fenti trovando al più presto un luogo dove poterlo inserire Questo è il disegno Bene, vi ringrazio dall'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto Grazie e alla prossima Ciao da Davide Ciao Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Fenti l'ultimo mammute superstite dell'episodio numero 25 I dipinti rupestri Una volta che Camillo promise alla sua famiglia che avrebbe trovato una casa per Fenti egli incamminandosi con il mammut giunse in una caverna primitiva conillustrata dei dipinti rupestri Camillo osservando i dipinti conobbe la vita penosa dei mammut i quali furono stati sterminati dalla caccia eccessiva dell'uomo Perciò lo scienziato triste si ranicchiò a terra riconoscendo di aver riportato alla luce una creatura senza futuro poiché nessuna elefantessa si sarebbe accoppiata con Fenti causando così il fallimento del suo obiettivo bensì salvare il pianeta dal cambiamento climatico grazie ai mammut Fortunatamente però Fenti aveva fiducia in Camillo e appoggiando la sua proboscite alla sua spalla tentò di fargli capire che non deve mai perdere la speranza Convincendo in questo modo Camillo a reagire e a trovare la strada giusta per il suo futuro Questo è il disegno Bene, vi ringrazio dall'ascolto Lasciate un like se vi è piaciuto Grazie alla prossima Ciao da Davide Ciao Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Fenti, l'ultimo mammut superstite dell'episodio Numero 26 La furia di Fenti Dopo che Camillo ebbe il coraggio di affrontare la drammatica situazione per il futuro di Fenti egli decise di consegnarlo al parco della Siberia dove il signor John felice di accudire il mammut promise a Camillo che avrebbe fatto il possibile per prendersene cura Durante la notte purtroppo Fenti provando nostalgia per Camillo fuggì dal parco causando panico e terrore in paese Inoltre il mammut entrando in una piazza distrusse la statua della pace costruita dal sindaco in onore tra la pace di due popoli facendola completamente a pezzi causando diverse vittime tra le quali anche il signor John che tentando di calmare la furia di Fenti fu ferito da un colpo di proboscite facendolo facendolo cadere a terra comprendendo che il mammut era fuori controllo fortunatamente però chiunse in quel momento la polizia che dopo saputa dal signor John la situazione riuscirono a catturare Fenti e a sedarlo decidendo di indagare il giorno dopo per capire come una creatura preistorica sia potuta apparire dal nulla seminando panico e paura in paese questo è il disegno bene vi ringrazio dall'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao